Buongiorno, ben trovati al telegiornale RAI della Toscana. Dalla festa rosa alla festa viola, quella di ieri sera organizzata dai Rotary Club di Firenze e Val di Sieve. Si celebravano i 90 anni della Fiorentina, i 60 dal primo scudetto e i 20 dalla Coppa Italia del 1996. Premiati proprio tre protagonisti di quella stagione, Lorenzo Amoruso, Emiliano Bigica e Anselmo Robbiati. Presenti anche Narciso Parigi, l'autore dell'ino della squadra, e Aurelio Virgili, figlio di Beppe, bomber di quello scudetto del 1956. Bene, tutto con queste immagini, vi salutiamo, una buona giornata a tutti voi.